La primavera è alle porte, come abbiamo detto più volte, oggi è l'ultimo giorno di febbraio per cui stiamo per affacciarci al mese di marzo che appunto segnerà il passaggio tra l'inverno. La primavera è come abbiamo già fatto martedì scorso, vogliamo accompagnarvi in questa primissima parte di Just Today all'incontro con la stagione della fioritura attraverso un viaggio nel mondo delle orchidee spontanee del Gargano che martedì scorso avete già apprezzato. Quest'oggi lo facciamo in compagnia di Orazio Armillotta, un esperto di fotografia e appassionato di orchidee per cui prego la regia di inviare il contributo registrato con lui. L'inverno sta giungendo al termine e le orchidee stanno iniziando a fare capolino sul promontorio del Gargano per accompagnarci alla primavera. Come promesso siamo ritornati in natura per mostrarvi un altro di questi bellissimi, straordinari, incantevoli fiori dei quali ci parlerà stamattina l'appassionato di macrofotografia e di orchidee, Orazio Armillotta. Orazio, buongiorno, benvenuto. Salve a tutti. Di quale orchidea ci stiamo occupando oggi? Allora, prima di tutto siamo proprio all'inizio della stagione, quindi ci sono pochissimi esemplari, però questa qui è un'orchidea che sta iniziando a fiorire, un'orchidea molto precoce, si chiama Anacamptis collina. Un esemplare che avete appena visto nel video è molto piccolo perché, come dicevo, siamo ancora all'inizio, diventerà 10-15 centimetri più grande e sarà molto più appariscente nei prossimi giorni. Molto bene, Orazio. Grazie per la tua disponibilità e per avermi accompagnato ad apprezzare queste meraviglie della natura che vanno ammirate, fotografate, ma non raccolte. È vero? Sì, sono delle specie da proteggere perché poi tutte le orchidee d'Italia sono specie protette, quindi proprietà dello Stato ed è vietata la raccolta. Ma anche se magari uno ci può provare a portarsela a casa, lo sconsiglio vivamente perché poi sono delle specie talmente delicate che in cattività fanno fatica a rifiorire l'anno dopo. Bene, allora, allacciate le scarpe, approfittate delle belle giornate che stanno iniziando ad arrivare e fate due passi in natura perché probabilmente potreste imbattervi in uno di questi straordinari fiori. E Orazio, che ringrazio per la sua disponibilità, ovviamente ci ha regalato qualche scatto che ha fatto con la sua macchina fotografica. La regia me li sta già anticipando nel maxischermo e prego di mandarli a tutto campo. Ecco, dicevamo, Orazio è un appassionato di fotografia e macro fotografia, appunto quella fotografia che cerca di mettere in evidenza i particolari e in questi scatti con la sua macchina fotografica ha ripreso proprio l'orchidea sulla quale ci eravamo concentrati. Sono tantissime le specie di orchidee presenti sul Gargano, ne conosceremo una o due per ogni settimana, per ogni martedì, per cui vi invito a seguirci e a inviarci i vostri scatti, scatti di fiori o di natura o comunque dovunque voi siate. Se volete mettervi in contatto con noi, lo sapete, il nostro 331 737 8033 è a vostra disposizione, purché vi firmiate e ci scriviate da dove ci state inviando le vostre foto o dei brevissimi, brevissimi video. Grazie. 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 Grazie.